ciao a tutti siamo con peppe di mauro al centro ciloc fondatore della piccola accademia delle percussioni che proprio qui al centro terrà un corso di percussioni percussioni afro cubane medio orientali insomma in tutte le sue sfumature peppe a chi è rivolto un corso di percussioni il corso di percussioni è rivolto a tutti cioè dai più piccoli dai quattro anni in su fino ad arrivare a tarda età non c'è 50 60 70 e i quindicenni che si avvicinano a uno strumento poi c'è la diversificazione del corso ciò significa ci sono corsi legati ad un aspetto più un po più io lo chiamo in termine diciamo internazionale drum circle il drum circle si crea facendo un cerchio con i tamburi e si utilizzano i tamburi come una forma di liberazione dallo stress da qualsiasi cosa quindi ci si chiude in sala prove in questo caso e si suona insieme senza tante cose da studiare a casa è molto liberatorio come corso per dilettanti poi si parla del corso del triennio cioè significa chi si avvicina ad uno strumento con una disciplina per arrivare a studiarne diversi metterli insieme e a utilizzare anche alcuni strumenti anche elementi della batteria i piatti rullante la cassa per poter utilizzare i due modi per accompagnare come del resto io lo faccio di professione da diverso tempo utilizzo tutti e due gli strumenti e a volte sono io l'unico percussionista o batterista che accompagna e chi è rivolto un corso di percussioni nel senso che ti spiego e molti magari hanno la curiosità e vorrebbero sapere se bisogna conoscere la musica saper conoscere la musica bisogna essere già preparati magari conoscere le note musicali come funziona una percussione allora per il discorso che dicevo prima del triennio è fondamentale perché chi si forma in maniera professionale deve conoscere la lettura musicale la didattica che è fondamentale quindi io ti do delle cose le porti a casa hai un promemoria lo devi studiare invece per quanto riguarda l'aspetto magari ludico per i bambini o per i direttanti che fanno drum circle lì diventa un fattore diverso perché si utilizzano altri codici un po più immediati e ripeto chi frequenta un drum circle un laboratorio di percussioni chiamiamolo così in italiano e piano piano ci si accorge che poi ci si può avvicinare ancora di più a l'aspetto più professionale alla disciplina vera e propria magari partono con il gembe perché hanno quello a casa ma si ritrovano magari a scoprire la darabuca araba o le congas il tamburello nostro siciliano e i suoi parenti quindi è un aspetto abbastanza vasto del mondo delle percussioni bene vi consiglio di venire giorno 2 ottobre qui al centro schlock in via 10 ottobre 114 per farvi una chiacchierata con peppe di mauro che sicuramente sarà molto interessante e per decidere se seguire la strada delle percussioni medio orientali o quelle afrocubane o altre ciao a tutti grazie e arrivederci grazie 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 grazie